Tutte le proposte formative del vivagio dei talenti, come diceva, sono gratuite. La missione avviene previo superamento di un colloquio di selezione, perché la partecipazione è a numero chiuso, proprio per consentire una formazione approfondita e il coinvolgimento attivo di ogni partecipante. I percorsi prevedono in partenza una formazione a tempo pieno della durata di circa due mesi, con lezioni quotidiane a distanza tenute dai nostri migliori esperti e da qualificati professionisti del settore. A tutti i partecipanti viene garantito un inserimento in tirocinio, con compenso, all'interno di una delle aziende del gruppo Zucchetti. Sono già aperte attualmente le iscrizioni per i prossimi percorsi disponibili a partire da settembre. Oltre a quelli già citati per web developer e per ethical hacker, è previsto un percorso per gli ERP Consultant, cioè quella figura esperta in ambito amministrativo contabile che configura e implementa gli applicativi gestionali in base alle specifiche esigenze dei clienti e ne ottimizza poi l'utilizzo curando l'addestramento degli utenti finali. Per candidarsi è sufficiente compilare l'apposita forma disponibile sul nostro sito web.